Ciao a tutti gli amici del Falcatraz, dell'Italia, del mondo. A nome di Tutti Riciclato Circo Musicale, buona giornata della liberazione a tutti. La resistenza va celebrata, ricordata, rinnovata, soprattutto in periodi come questo. Quindi restiamo allerta. Ma intanto, non buttatevi mai niente, anzi... Suonatelo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!